Il resto è il resto. Il resto è il resto. E' il resto. E' il resto è il resto. No, questo è il buoniero. No, io devo dire che ho dovuto continuare a fare. Ho visto che ho fatto 3-4 posti. Ma hai fatto bene una copia? Non hai fatto bene. Guarda gli altri che becchiti. Guarda la partita. Non me l'hai fatto da me. Non me l'hai fatto da me. Non me l'hai fatto da me, vuoi capire. Basta fare in YouTube. No, no, ma l'hai letto. Hai un signor? No, l'hai televisore che può partire. Lo vedi tutti. No, no, è di YouTube. Non me l'hai. Non me l'hai. Non me l'hai. Non me l'hai. Nog颃 punto. Non ce mi viene. Ma l'hai. Non mi viene news. Non mi viene. Non mi viene bonito pro handling. Non mi viene molto grande. Grazie. 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 Ma allora perché è fu... 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 è fu da l'ara che... Un'amica da tirer, un'amica da tirer, era da scricchiere, non c'era un'amica trì. Questi anni scurano solo le tigre. Aveva detto, ma tirerò, però aveva detto, vuoi tirer. Dopo, facendo un brasone, aveva detto questo. E' difficile. Dopo, già c'è anche lì. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.